Finisce in parità senza gol il recupero di Serie D fra Pineto e Recanatese alla fine di una gara equilibrata nella quale i padroni di casa hanno provato a far proprio l'intera posta, calando nel finale quando i marchigiani hanno sfiorato il colpaccio. Recrimina il Pineto per un rigore non dato al novantesimo. Restano tre i punti di distacco tra le due con la Recanatese che ha ancora una gara da recuperare. Amaolo ha di nuovo a disposizione e porta in franchina Ciarcelluti e Bugaro, Out Palumbo, Pierpaoli, Camplone. Il tecnico pinetese va ancora con la coppia pesante, Tomassini Olcese. Sul fronte opposto Gianpaolo è privo di Ferrante e lascia inizialmente in panchina il bomber Pera. Nel 3-5-2 l'ex notalesco Liguori e l'ex terramano Piccioni sono i terminali offensivi. Primo tempo molto godibile tra due squadre forti e ambiziose. Dopo una prima fase di studio il Pineto a rompere gli indugi con la prima importante palla-gol. Olcese sfonda e arriva a Tuberto con De Chirico che gli dice no. Risponde la Recanatese con una manovra elaborata, cross di Pezzotti, torre di sbaffo per Piccioni che incorna centralmente, blocca Mercorelli. Un minuto dopo Olcese in veste di Assisman Libera Verdesi, il cui destro però è impreciso. Altra grossa chance pinetese prima della mezz'ora, Recanatese distratta e una rimessa laterale manda in porta D'Angelo, ma De Chirico in uscita bassa è ancora provvidenziale. Sul ribaltamento di fronte Gomez, sempre attivissimo, conclude centralmente. Più pericolosa la giocata di Liguori al quarantesimo, conclusione mancina alla sua maniera, ma Mercorelli risponde bene deviando in corner. Sempre Liguori dalla solita mattonella, conclude alto. È l'ultimo atto del primo tempo. La ripresa si apre, dopo quattro minuti Amaulo cambia volto al Pineto, fuori Olcese, dentro Cercelluti e passaggio al 4-2-3-1 con Esposito dietro Tomassini. Al decimo, ottimo taglio di D'Angelo per Verdesi che controlla bene ma non tira subito ed è murato. Diciottesimo, cross di Nicolao, torre di Cercelluti, ma né Esposito né Tomassini arrivano all'appuntamento col gol. Ventesimo, corner di Nicolao, Esposito in corner sull'esterno togliendo il pallone a Salvatori, forse meglio piazzato. Folata pinetese che Giampaolo prova a interrompere con l'ingresso di Perra al 24esimo al posto di Piccioni e un minuto dopo la Recanatese si fa rivedere dalle parti di Mercorelli con l'ex Pezzotti. Contro break pinetese al 31esimo con Paoli che serve Cercelluti che tira alto anziché servire Tomassini. Al 34esimo super palla gol per la Recanatese, Liguori spara a botta sicura sulla corta respinta di Pepe, Mercorelli respinge distinto e poi è super sul tentativo di tap-in di Giaccaglia. Altro brivido per il pineto al 43esimo sulla punizione di Pezzotti e il colpo di testa di poco alto di Sbaffo. Proteste pinetese allo scadere, il neentrato di Giovachino è affrontato in scivolata da dietro da Donzelli in piena area. Maccarini di Arezzo ci pensa un po' e poi opta per la simulazione. La punizione di Nicolao fa poi scendere il sipario su un risultato nel complesso giusto. Gian Paolo, un bel finale di partita, avete rischiato il colpaccio nel contesto di un match equilibrato? Sì, penso di sì perché la partita al primo tempo è stata equilibrata. Pineto, sappiamo, è una buona squadra costruita per vincere, lo sapevamo, però noi abbiamo fatto una buona partita. Forse questa continuità che non abbiamo avuto perché abbiamo saltato due partite ci ha un po' penalizzato un po' sul ritmo. Però penso che poi alla fine il risultato sia giusto, abbiamo avuto due occasioni quasi alla fine dove il portiere loro è stato bravissimo. Però penso che poi alla fine le due squadre hanno espresso un buon calcio, hanno giocato, tutti e due cercavano di vincere la partita e penso che il risultato sia giusto. Pinetore, crimina nel finale per quell'atterramento di Giovachino, lei come l'ha vista? Aspetto stasera di vederla perché sinceramente ero impallato lì, non ho visto. Visto che lui è entrato un po' in ruento, secondo me, non so se ha preso la palla o preso prima la gamba. Amaolo, una buona gara, avete rischiato nel finale, poi c'è quell'episodio che forse fa fa recaminare tanto l'atterramento di Giovachino. Sì, al di là dell'episodio del rigore, che io ero troppo lontano per giudicarlo, la partita è stata una bella partita, entrambe le squadre hanno provato a giocare e a vincere. C'è stata una partita che poteva finire 2-2, 3-3, un 0-0 un po' che non testimona delle azioni che si sono svolte durante la partita. Sicuramente nella prima frazione abbiamo sofferto un pochino anche se abbiamo avuto due occasioni clamorose che siamo andati due volte a tutto per tutto con il portiere. Nella seconda parte, mezz'ora, abbiamo fatto la partita, anche qui abbiamo avuto due o tre occasioni importanti. Poi ci sta che un po' di stanchezza è subentrata e l'ultimo quart'ora la regalatessa ha spinto e fortunatamente il nostro portiere è stato bravo in un paio di circostanze, anche se poi alla fine abbiamo avuto l'occasione per chiudere la gara, però accettiamo il pareggio con una squadra forte e consapevoli di aver fatto una buona prestazione. Quindi ripartiamo dalla prestazione e speriamo di essere un po' più incisivi sotto porta.